Un giro di pastella o solo una passata di farina, poi un tuffo nell'olio bollente, è ciò che serve per rendere ogni piatto una delizia croccante per il palato. Se poi a finire in padella sono i prodotti del territorio a chilometro zero, dal mare alla terra, il risultato non ha bisogno di presentazioni. Ecco Fritto di Marca che apre i battenti a Falconara in tutta l'area pedonale di Via Bixio con 30 stand fino a domenica dalle 9 alle 23. Ordine Cultori della Cucina di Mare Restocco e Accademia dello Stoccafisso a Lanconitana sono le due associazioni organizzatrici insieme all'Assessorato al Turismo del Comune di Falconara e Confartigianato Imprese. Al lavoro anche i docenti dell'Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia con alcuni studenti. Questa iniziativa si inserisce in un puzzle molto ampio e articolato che abbiamo cercato di costruire per la nostra città. E questo tassello della Eno Gastronomia in effetti mancava. Quindi mi sono guardata intorno e credo che questa sia un'opportunità per Falconara davvero interessante. Dall'affluenza vedo anche una grande partecipazione. Questo vuol dire che è la formula giusta e la formula vincente per Falconara. Noi chiamiamo questi esperimenti sul territorio edizioni zero perché vorremmo tastare il polso per vedere se la riuscita di Ancona si può spargere e quindi aumentare l'aspetto turistico ricettivo e soprattutto anche valorizzare i prodotti del territorio perché con quelli si combina e si prepara il piatto tipico dell'Anconetana che è lo stoccafisso dell'Anconetana oltre che gli altri prodotti del mare. Quindi Quindi Grazie a tutti